Expo Sanità 2016, siamo a Bologna, ora siamo in compagnia di Adriano Caprari, direttore commerciale di Impronta Medica. Di cosa si occupa la vostra attività? La nostra attività fondamentalmente noi produciamo e sviluppiamo tecnologie per il controllo e lo studio specialistico della postura. Quindi forniamo tecnologie fondamentalmente per lo specialista e per il medico al fine di preventivare e fare un inquadramento globale del corpo da un punto di vista posturale. Per approfondire il valore tecnologico proposto da Impronta Medica siamo ora con Gianluca Peluso, direttore tecnico dell'azienda. Quali sono i prodotti che proponete e che caratteristiche ha? I prodotti che noi proponiamo sono pedane barobotometriche, che è il nostro prodotto di punta. Le costruiamo direttamente nella nostra sede di Roma e le moduliamo in formati da 40 cm fino ad avere pedane lunghe anche 3-4 metri. Dove abbiamo esigenze che dobbiamo andare su pedane più lunghe possiamo utilizzare anche dei tapirulampressori. Dopodiché abbiamo i nostri software sviluppati sempre dalla nostra azienda che permettono di monitorare la postura e curarla nel tempo. Quindi confrontarla e dando supporto allo specialista per monitorare il paziente nella sua riabilitazione. I vostri passi per il futuro? Diventare sinceramente una realtà importante, affermarci a livello mondiale e internazionale appoggiandoci anche a una fitta rete di distributori e quindi dare un servizio importante a livello mondiale. Grazie.